E' il confine che separa Le giantazioni, la speranza da una parte La paura, il panico La frustrazione Allontana Ranocchi, Balsaretti, palla buona Per Florenzi, occhio a Cervigno dentro Palla per lui, c'è anche Totti a sostegno Palla per Totti, destro di Totti 1-0 Roma Nell'angolo Totti Non c'è nient'altro da aggiungere Balla per lui, uno contro uno Giaccherini, ancora verso Del Piero Si sta prendendo Pirlo, Del Piero 2-0 Juve 289 in carriera Del Piero La forza delle idee Il piazzato dell'angolo Il capitano di sempre 19 anni di storia Nel giorno dell'addio Come sempre Del Piero c'è Palla che viene spazzata via A cercare ancora una volta Un inserimento profondo Hart Combina un altro pasticcio 4-2 4-2 Che gol Sempre lui Sempre lui Solo lui Poker all'inchi in terra Un gol pazzesco Rifletta di Brejimovic Ancora la battuta Possibilità per Giunica Cross dentro Palla buona Gemaili Inganibile 3-3 3-3 3-3 3-3 Tripletta Il piazzato di Gemaili Una tripletta di Gemaili Non era quotata Non sembrava un'ipotesi possibile Non ha dubbi l'arbitro C'è un contropiede E c'è forza il match point E c'è Torres E c'è Torres E c'è Torres E c'è Torres E c'è il 2-2 E c'è il 2-2 E il calcio è strano Il calcio è illogico Non ci si capisce nulla Con questo gioco qui Possesso per Lofenheim Colpo di testa di Alexander-Arnold Poi il pallone buono Per la ripartenza del Liverpool E per Mané Che trova il corridoio Ancora Mané Ha una nuova possibilità Stavolta però preferisce aspettare Palla sul destro Il tacco Emre Can Trova E trova l'1-0 Liverpool Emre Can Dopo 600 secondi Porta in alto I cuori reds Possibilità per Macaio Po La copertura da parte di Fazio Quindi David Luiz Palla verticale Il pubblico voleva che tirasse Tira adesso E trova un gran gol David Luiz Per l'1-0 Chelsea Più profondo c'è Ovviamente Suarez Eccolo Il dai vai Ancora Messi 1-0 Barca Il lampo di Messi Il movimento a liberare lo spazio Poi il fraseggio perfetto Fra Messi e Suarez Zilinski Cerca il corridoio buono per Mertens Occhio a Mertens Mertens prova Posa Posamez E 1-1-1 1-1 Il pareggio del Napoli L'errore di Posamez Salah ancora voglia dall'altra parte Uno contro uno Manet Altro tacco Firmino Morbido Il piazzato del 3-0 È arrivato Embrecian È una sinfonia in rosso Sotto al cielo di Anfield E attenzione a Messi 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 Fino in fondo Messi 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 è mostruoso Messi è mostruoso Puoi dire Trova ad attaccare adesso Kolarov Raddoppio di marcatura Kolarov Con grande personalità Kolarov Trova un gol strepitoso E importante Nel momento più difficile Minuto 40 Kolarov Un gran gol L'Ingsteiner va col mancino Intentativo di sponda La parte di Mangio Che poi di bala 1-0 Juve Al primo fondo Al quinto minuto Di bala La sblocca lui Calcio d'angolo per i Bayern Occhio alla battuta Con quattro saltatori Coppa di testa Vidal 1-0 Bayern Vidal Di testa 1-0 Per la squadra di Ancelotti In mezzo c'è Icardi Il pallone per lui Icardi 1-0 Inter Il lampo di Cardi Sull'asse di Candreva Esplode La Milano nera azzurra È pronto Koke Con il destro Palla in mezzo 1-0 1-0 Atletico E adesso la partita cambia Con Sao Jigues 1-0 Atleti C'è Zidane Che carica i suoi Quelli dell'Atletico Non c'è bisogno Di caricarli Anche Verratti Al limite dell'area A Teni Maria Colbancino Ed è 1-0 Paris La mente nell'angolo Nel giorno Nei suoi 29 anni Balla buona per Sharaoui 2 contro 5 Non è facile Allora Sharaoui Tiene il massimo Attraverso Questa cina volta Balla buona per De Rossi Che può salire Tocco verticale Verso Dzeko 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 1-0 Roma Posizione regolare Per Dzeko E la Roma passa Minuto 39 Altra apertura Bologna che può attaccare C'è la sola posizione di Kraske Però è stato ignorato Oconco Il tocco nella zona di Tyder Ci sarebbe Kraske Da servire Ancora Tyder Balla sul destro Giro 1-0 Bologna Un gol bellissimo Un gol bellissimo Di Tyder Iago Falke Ancora le Silvestri Cerca Iago Falke E lo trova Occhio A Iago Falke Iago Falke Va col mancino E' un gol pazzesco Iago Falke 1-0 Toro Mangiukic lascia sfinare E' buona per Alexandro Occhio ad Alexandro Il tocco morbido in mezzo Iguain Iguain Il big big up Balla verticale Cercare Dzeko Colpito dal pallone Ma attenzione Perché è un attento 1-0 Ed è 1-0 Subito il Cianawi Subito il Cianawi Il farone Occhio a Suso Suso col mancino E' il pareggio del Milan Balla in buca d'angolo Suso Ha scelto quell'angolo E ha trovato un gol bellissimo Non Ben Benzema, raddoppio di marcatura di Godin, Benzema, se li porta a spasso diventano tre, Benzema, numero di Benzema che apre per Kroos e poi il pallone lì, Isco! 2-1, Isco! Ma che cosa ha fatto Benzema? Perisic va sul fondo, lo trova, Kroos in mezzo ai guardi! 2-1 Inter, Icardi, sempre Icardi per il raddoppio dell'Azzurro nel momento più difficile. Palla verticale verso Mertens! Occhio a Mertens! L'anticipo! Il piazzato! 1-0 Napoli! Mertens! Alla verticale a cercare Dzeko! 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 Cavani si butta dentro, Di Maria riceve il pallone. Occhio al taglio, si arrivano anche Venier. Di Maria, Di Maria! 3-0 Paris! Estasi a Parigi! Di Maria! Anche, Di Maria riceve il pallone. Di Maria riceve! Chi di Maria riceve il pallone. Isaia il pallone! E' gol del Barça! E' gol del Barça! Suárez e Luis Enrique l'hanno messa dentro con le mani, come si dice in gergo. Occhio a Iniesta che si propone, sembra in vantaggio Varchignos, Iniesta con una magia, la deviazione! 2 a 0! 2 a 0! Ma cosa ha fatto Iniesta? 2 a 0 sull'errore clamoroso di Varchignos e sulla genialata di Iniesta, la liberazione di Cavani, la carica di Neymar! Messi o Trapp? Va Messi! 3 a 0 Barça! Di potenza Messi! Messi! E' adesso! E' adesso! Verticalmente su Dybala! Occhio a Dybala! Fale e mezzo per Higuain! Cento! Cento volte pipita in Serie A! Un lambo sull'asse Dybala-Higuain e la Juve-Van! Asensio con il mancino morbido! Nooooo! Cento volte! Cento volte Cristiano! Doppietta nella notte di Monaco! 2 a 1! Un gol da opportunista! Un gol da fenomeno! Colano col mancino! In mezzo! Oh! 3 a 2 Roma! L'antissima sul primo palo! Dzeko ancora! Dzeko e Dzeko! E la Roma la ribalta! 69 minuti! 3 a 2 Roma! L'istinto dell'attaccante nel momento decisivo! L'istinto dell'attaccante nel momento decisivo! L'istinto dell'attaccante nel momento decisivo! La qualificazione del Barça in questo momento è piuttosto complicata, nuovamente complicata. Servono tre gol in 23 minuti più recupero. Signori miei, succede qualcosa. Incredibile, remonta Rem, non è più soltanto uno slogan, con un hashtag davanti e una possibilità concreta. Tutti dentro. Ecco la battuta di Neymar, palla in mezzo, ha allontanato Rabiot. Neymar ha una nuova possibilità, 49-35, uno contro uno, se la porta sul mancino. Va morbido dentro. Non ci credo, non ci credo. Sarsi Roberto, Sarsi Roberto, Sarsi Roberto, Sarsi Roberto, Sarsi Roberto, Sarsi Roberto. Sei molto in Barça, sei molto in Barça. Io non ci capisco niente. Io non ci credo, io non ci capisco niente. Possiamo fare anche sei. Se siamo pazzi di questo gioco, è per questo motivo, perché non ha logica, perché ha preso a tu. Trovatela un'altra cosa che racchiuda in 90 minuti o in pochi secondi il senso di tutto, delle vittorie, delle sconfitte, delle paure, delle speranze. Una cosa così illogica come questa qua.